Il Signore è sempre presente in noi ed accanto a noi, anche se non lo pensiamo in modo specifico. Lui pazientemente attende una nostra risposta d'amore. Tutto è nelle sue mani, nulla accade se Egli non lo permette. Egli conosce esattamente il momento in cui ci verrà a prendere. Abbiamo a che fare con l'Onipotente Creatore, il quale è sempre amore e non si stanca mai di noi perché ci ama la follia come quando ha affrontato la passione e la morte per ognuno di noi. Egli ha perfettamente davanti ai Suoi occhi divini il momento in cui siamo stati concepiti, ogni nostro passo, ogni più piccolo stadio della nostra vita passata, presente e futura, ogni nostra fragilità. Non ci dobbiamo preoccupare di nulla quando siamo consapevoli che Egli ci ama sempre. Con Lui dobbiamo essere come bambini che si fidano della loro madre, per cui lasciamoci andare tra le sue divine braccia perché Egli sa perfettamente cosa fare di noi, come plasmarci ed il posto che ci sta preparando e che ci assegnerà nell'aldilà con Lui, dove lo potremo gioiosamente contemplare faccia a faccia per tutta l'eternità.